Prima giornata di ritorno in Serie B1 e la capolista Pulsano, OM29, scende in campo contro Automobili Montrone per confermare il primo posto in classifica e, se possibile, allungare nei confronti delle avversarie. Subito le formazioni, partendo dai padroni di casa che schierano un classico 4-4-2 che vede Lezza tra i pali, Ciro Trani e Davide Del Rico centrali di difesa, Umberto Briganti e Massimo Saddi rispettivamente, terzino destro e sinistro. La cerniera di centrocampo vede alla regia la coppia composta da Fabrizio Cavallè e Giampiero Manzacca. Sulle fasce a correre liberi, Bisignano a destra e Semeraro a sinistra. Terminali offensivi Silvio Saddi e Cosimo Ricchiuti. Dalla parte opposta stesso schema tattico per i gialloblu pulsanesi con Flavio Pepe a difesa della porta. Il muro difensivo vede Manuel Recchia, Giovanni Ungaro, Cosimo Pinca e Giuseppe Lacarbonara. Il corposo centrocampo invece è formato dalla coppia centrale Cavallari-Dauria e dalle frecce Vito Russo e Simone Recchia. In attacco il bomberissimo Gianluca Palomba e udite udite il già leggendario Sossio Aruta. Corner battuto dalla destra per il pulsano. Palomba serve di testa in avanti. Lezza in anticipo su Aruta respinge, allontana poi Silvio Saddi. Palomba riceve palla a centrocampo. Attiva il GPS per servire in profondità Vito Russo che si libera della marcatura di Massimo Saddi per entrare Gagliardo in area avversaria e servire l'assist platinato a Sossio Aruta che battezza l'esordio in campionato segnando il vantaggio pulsanese. Subito incisivo il numero 15 gialloblu, ma grande merito va dato a Vito Russo, autore del passaggio decisivo. Cavallari serve Simone Recchia a centrocampo. Il lancio dell'ala sinistra è per Palomba che si fionda rapace sul pallone. Lezza però gli si lancia addosso tipo kamikaze per disturbarne l'azione. Tutto regolare. Si vedono i padroni di casa con Ricchiuti che tenta di sorprendere Pepe da posizione defilatissima. Fabrizio Cavallè se ne va a spasso per il campo attendendo il posizionamento degli attaccanti. Poi effettua un lancio illuminante per Bisignano che però viene contrastato da Flavio Pepe in maniera giudicata fallosa dal direttore di gara che assegna così il calcio di rigore e rosso blu di Montrone automobili. E Cavallè che si occupa di battere il penalty spiazzando l'estremo difensore avversario. Tutto da rifare allo stadio Iacovone di Taranto. Palla intercettata da Cavallè sulla mediana. Il servizio è per Bisignano che innesca Ricchiuti con un passaggio in profondità. L'attaccante rosso blu si porta sul fondo per buttare il pallone al centro dove nel frattempo è arrivato Fabrizio Cavallè che dopo aver eluso la marcatura di un paio di avversari stampa una staffilata clamorosa sulla traversa. La palla ritorna in campo ma noi la goal line technology non ce l'abbiamo e perciò ci fidiamo dell'arbitro che la battezza fuori dalla porta. Su un rinvio di Lezza c'è l'intercetto di Raffaele D'Avria il quale serve all'indirizzo di Sossio Aruta che suggerisce successivamente per Palomba. La punta penetra in aria e scarica in corsa Lezzare spinge coi piedi. Simone Recchia riceve da Pinca sulla trequarti. Dopo sofisticatissimi calcoli trigonometrici serve un palloncino ghiottissimo all'indirizzo di Palomba che senza farselo ripetere troppe volte timbra il cartellino per la sedicesima volta in questo campionato. Rivediamo quest'ennesima perla del Panzer Pulsanese e il gol che vale il 2-1. Calcio di punizione per gli ospiti. Alla battuta Simone Recchia che disegna una traiettoria in fin garda che Lezza intuisce ma che non riesce a respingere. L'erroi Michel Platini sarebbe lieto di approvare questo pregevole colpo del trequartista gialloblu. La reazione dei padroni di casa al terzo gol degli avversari è rabbiosa e sta tutta in questa volitiva azione personale di Francesco Bisignano che si porta a spasso quasi tutta la difesa avversaria prima di effettuare il passaggio filtrante all'indirizzo di Semeraro che scarica in porta una botta di sinistro tremenda che però Flavio Pepe devia in corner. Marco Viterbo e Gianluca Palomba duettano sulla fascia destra. Il traversone al centro del 9 gialloblu e Peraruta che colpisce a botta sicura. Il miracolo però lo fa Ciro Trani che si palesa davanti alla porta per respingere il pallone. La partita sta per finire ma c'è il tempo per un ennesimo attacco del Pulsano che vede protagonista il nuovo entrato Alessio Viterbo. Il terzino Pulsanese danza elegante lungo l'out di sinistra prima di scodellare al centro una palla invitantissima sulla quale si avventa Giuseppe La Carbonara. Lezza però si salva con tantissimo mestiere. Vince dunque il Pulsano On 29 e allunga in classifica in attesa di sapere cosa succederà nel posticipo che vedrà impegnati Programma Sviluppo e Angeli Custodi. Per noi è tutto. Hasta la vista, amigos!